benvenuti in un nuovo video questa volta continuiamo a parlare di finanza degenerata ma parliamo anche di cose serie andiamo un po a vedere dove si sta spostando la liquidità visto che si sta un po togliendo da ethereum per andare su altri progetti ma come sempre investi responsabilmente e a tuo rischio questi non sono consigli finanziari tu non sei just in sun mi raccomando questo è veramente importante io sono luigi e in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina non ti perderai i miei nuovi video puoi anche seguirmi su telegram a te consapevole per quanto riguarda la tecnologia e a te consapevole cripto per quanto riguarda le criptovalute e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della te consapevole academy ok allora partiamo con la prima notizia degenerata veramente incredibile secondo questo articolo di decrypt i venezuelani ora si possono comprare le criptovalute con lo stimulus check quindi l'equivalente del nostri vari bonus ristori e quant'altro quindi creano soldi per comprare cripto quindi cose veramente mai viste prima questa cosa diciamo non può essere fatta direttamente ma bisogna passare da un dollaro pegged quindi un'altra criptovaluta stabile che però stando a questo articolo può essere convertita poi in altre criptovalute tramite altri exchange questa cosa appunto veramente strana di fatto se uno stato inizia a stampare e a regalare soldi come se non ci fossero domani quello che accade è che le criptovalute avranno dei prezzi che tenderanno ad infinito e le persone inizieranno poi apprezzare le cose in bitcoin o altre cose più stabili quindi se veramente altri stati dovessero adottare questa politica veramente potrebbero accadere delle cose mai viste prima secondo me nell'economia e quindi come c'è scritto qua appunto queste stable coin si possono poi convertire in bitcoin litecoin dogecoin oppure tether usd e la criptovaluta stabile che viene menzionata è appunto una sorta di dollaro e in questo articolo dice anche che appunto il venezuela è uno dei paesi dove le criptovalute hanno in effetti uno degli impatti più forti dopo ucraina e russia ok altro articolo sempre della serie nft che sono tanto carini e tanto simpatici justin sun ha fatto un'offerta per acquistare l'nft del titolo del tweet di jack dorsey quindi il fondatore di twitter e ci sono state varie offerte poi è arrivato lui mille un milione di dollari per questo tweet quindi se voi cliccate qua allora questo è il tweet che ha messo in vendita e qua e dove l'ha messo in vendita tra l'altro poi ha rilanciato con due milioni di dollari e adesso c'è un'altra persona ancora più fuori che ha offerto due milioni e mezzo di dollari per avere il suo nome associato a questo tweet ovviamente queste informazioni si trovano su twitter queste persone stanno pagando solo per avere il loro nome affiancato a questo tweet e quindi di fatto l'opera d'arte o il collectible è un qualcosa che alla fine esiste su questa piattaforma che appunto associa il nome a questo tweet quindi vedete voi se questa cosa vi sembra normale sicuramente alcuni artisti potranno avere dei benefici da questi nft però come è stato con le ico che all'inizio erano delle cose più o meno sensate poi si è iniziato a degenerare le cose in una maniera incredibile e poi tutti quanti sappiamo che cosa è successo la cosa però più interessante è capire dove sta andando la liquidità su defi pools come vedete nonostante ci sia molto fermento nelle criptovalute la liquidità nell'ecosistema ethereum non è ai massimi anche se si è ancora si è un pochino diciamo recuperato ultimamente e la cosa ovviamente la motivazione è che attualmente il costo per interagire con gli smart contract ethereum e fare le transazioni è aumentato molto ultimamente e quindi le persone hanno iniziato anche a vedere altre alternative alcune alternative fanno parte dell'ecosistema ethereum tipo i vari layer 2 tra l'altro c'è questo account twitter che monitora appunto questi exchange questi progetti che diciamo non vanno a scrivere sulla blockchain ethereum ogni transazione però permettono appunto di rimanere sull'ecosistema ethereum però ci sono anche altre blockchain che si integrano con ethereum e di fatto stanno prendendo liquidità per quanto riguarda i layer 2 al primo posto abbiamo appunto zk swap che è uno degli ultimi exchange layer 2 che ho anche accennato sul mio canale quindi questo qui è zk swap poi abbiamo quick swap dex che però è su layer 2 matic poi abbiamo loop ring che anche questo ne ho parlato e poi ce ne sono appunto altri qua fa notare che comunque più della metà della capitalizzazione è nel diciamo token nativo di questo DEX quindi anche questo è importante non si tratta di token ethereum si tratta di token ethereum ma in particolare di quello che sostanzialmente si sono creati loro quindi scrivetemi anche voi nei commenti quale vedete come competitor a livello di liquidità per ethereum un altro progetto che ultimamente ha fatto parlare di sé è stato bancor questo è diciamo ethereum layer 1 quello normale praticamente è uscito un tweet già da un po' di tempo però diciamo è stato metabolizzato e questa nuova funzionalità che permette alle persone di partecipare a una pool di liquidità senza rischiare l'imperment loss quindi in questo caso invece di fornire due token per dare la liquidità potete fornirne solo uno e tramite questo sistema appunto non dovreste avere questo problema di imperment loss ovvero quando i due token oscillano c'è il rischio che l'oscillazione vi faccia perdere di più rispetto a quello che guadagnate dalle fee per il fatto di aver offerto queste criptovalute questo si tratta di un progetto appunto dell'ecosistema ethereum che poi si era anche integrato con IOS e non si tratta di un progetto nuovo ma si tratta di una nuova funzionalità che è stata aggiunta ultimamente e infatti anche qua su Dapp Radar tra i progetti diciamo più citati abbiamo appunto Bancor Quick Swap quello che abbiamo visto prima Crypto.com Oneinch Bancor X quindi l'integrazione con IOS e Mirror L'altro progetto che sta prendendo appunto abbastanza liquidità è Mirror quello che ho parlato in precedenza sugli asset sintetici quindi stock, azioni eccetera e ultimamente è arrivato quasi a appunto 900 milioni di dollari quindi quasi un miliardo di dollari come capitalizzazione e una cosa che appunto verrà introdotta a breve sarà anche la possibilità quella di comprare un asset sintetico che mima lo standard and poor index quindi come vedete qua i token holders possono votare quali diciamo modifiche fare a questo tipo di progetto è stata superata la soglia del quorum e i voti sono positivi quindi a breve sarà possibile anche comprare diciamo appunto degli asset sintetici con le criptovalute che mimano appunto questo tipo di aspetto invece appunto altre funzionalità non sono state non hanno raggiunto il quorum oppure sono state appunto rifiutate dalla community questo è uno degli utilizzi anche del token Mirror altre cose interessanti allora appunto come dicevo ci sono davvero tanti progetti che stanno tirando fuori cose molto interessanti alcuni sono le IR2 Ethereum altri sono altri progetti che stanno prendendo liquidità qua su Dupradar attualmente i progetti che hanno più capitalizzazione sono appunto MakerDAO quindi Ecosystem Ethereum Compound Pancake Swap questo qui sulla Binance Smart Chain poi abbiamo Curve e Alpaca Finance su Binance Smart Chain e Venus che è l'equivalente diciamo di MakerDAO quindi veramente c'è un fermento altissimo quindi è difficile anche seguire dove va poi tutta questa liquidità perché nel momento in cui vengono creati dei ponti è molto facile spostarsi da una blockchain all'altra dove viene dato magari un interesse maggiore oppure dove vengono fornite delle DAP che magari su altre piattaforme sono costose oppure non esistono e quindi appunto questa cosa è molto da tenere in considerazione e giusto per farvi vedere un grafico questo è il grafico di Bancor come vedete questo progetto esisteva fin dal 2017 e ha raggiunto diciamo il massimo di nuovo in quasi il massimo in dollari però in Bitcoin diciamo che non ha ancora raggiunto i massimi è anche vero che però se andiamo a vedere la market cap la market cap di questo progetto diciamo che è già arrivata quasi anche in Bitcoin a alcuni massimi che abbiamo visto nel 2018 niente queste erano le notizie che ritengo ritenevo più importanti da segnalarvi perché veramente è un settore in continua espansione NFT più o meno sensati nuovi progetti da seguire e appunto lasciatemi nei commenti se avete trovato qualche altro progetto che sta assorbendo tanta liquidità diciamo oltre il miliardo di dollari questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti